Un cordiale buonasera cari amici di Media24, paese ben strano il nostro, due settimane fa Draghi e il segretario della CGL Landini si abbracciavano in segno di solidarietà per l'attacco alla sede del sindacato ed ora si guardano in Cagnesco per via della riforma delle pensioni. Addirittura il sindacato minaccia la mobilitazione se il Presidente del Consiglio insiste sulla sua proposta di uscita da quota 100. Siamo sempre alle solite, quando si tratta di affrontare i nodi veri del nostro sistema, quelli che incidono in modo più forte sui conti pubblici, tutti alzano le barricate a difendere gli interessi della loro categoria e tutto si ferma. E forse questo è il male incurabile dell'Italia, la sua incapacità di trovare una sintesi che possa ridare fiato alle sue traballanti finanze e un futuro alle giovani generazioni. Basterebbe seguire un principio di buonsenso, chi ha di più dia di più, chi ha di meno dia di meno, in base all'assunto sacrosanto sancito dalla Costituzione italiana che fissa per esempio la progressività nel pagamento delle imposte. Ma tra evasione e delusione, burocrazia asfissiante, giustizia lenta e interessi corporativi, anche i più buoni principi vanno a farsi benedire. Tutto declina in un eterno conflitto tra partiti e sindacati, tra istituzioni e mondi associativi, senza che si trovi mai un punto di equilibrio nell'interesse esclusivo del Paese e cioè di tutti noi. E che l'Italia non sia un Paese per i giovani, lo dicevamo qualche giorno fa da questo studio, anziché preoccuparci di loro e del loro futuro, ci preoccupiamo soprattutto di chi il futuro ce l'ha già alle spalle. E sul tema delle pensioni, al netto delle situazioni particolari come i lavori usuranti per esempio, ma con l'aspettativa di vita che si è allungata rispetto al passato, non è forse accettabile immaginare di andare in pensione qualche anno più tardi. Domande semplici alle quali però sembra difficile, se non impossibile, ottenere delle risposte concrete e di buon senso. E allora cari amici di Media24 confidiamo almeno nei miracoli che la fantasia italica tolga dal cilindro qualche magico elisir che ridia un po' di energia e di forza a un Paese fiaccato da tanti acciacchi e da tanti malanni. Ma anche per il mago Draghi non sarà facile riuscirci. E ad ora passiamo alle notizie di cronaca. Urge il completamento della terza corsia sull'autostrada Venezia-Trieste. Secondo le stime elaborate dalla fondazione Think Tank Nord-Est, nel 2021 il traffico dei mezzi pesanti sulla rete di autovie venete potrebbe già superare il livello del 2019, oppure registrare un dato di poco inferiore, con una crescita rispetto al 2020, compresa tra il 15 e il 16,2%. In entrambi gli scenari, invece, nel 2022 si registrerebbe il nuovo record assoluto del traffico pesante, con percorrenze comprese tra 828 e 853 milioni di chilometri. Il traffico sulla Venezia-Trieste è di nuovo molto intenso. Se consideriamo i mezzi pesanti, si è ormai già tornati ai livelli del 2019, spiega Antonio Ferrarelli, presidente della fondazione. E purtroppo questo ha contribuito al verificarsi di gravi incidenti, soprattutto tra Sandonà di Piave e Portogruaro, dove manca ancora la terza corsia. Nei prossimi mesi, con la ripresa dell'economia, i flussi lungo l'autostrada sono destinati ad aumentare, creando il rischio di un ulteriore tributo di morti e feriti, ma anche di disagi sulla viabilità locale per la popolazione e per le imprese del Veneto orientale. Per la Venezia-Trieste si deve anticipare il completamento della terza corsia, conclude Ferrarelli, perché la sicurezza di automobilisti e camionisti non può più attendere. Andiamo adesso a Pordenone. Accanto a strutture e tecnologie sanitarie è necessario investire in personale, cosa che l'azienda sanitaria pordenonese e la giunta regionale stanno trascurando. L'ulteriore prova è la situazione delle RSA di Pordenone e Sacile chiuse per interventi sulle strutture e non ancora riaperte per mancanza di personale infermieristico. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni del Partito Democratico, a margine della risposta all'interrogazione da lui presentata sulle chiusure dell'RSA di Pordenone e di Sacile. Nella sua risposta l'assessore Riccardi, continua il consigliere, ha sottolineato le difficoltà delle cooperative nel reperire il personale necessario a garantire il servizio che verrà riattivato tra 10-15 giorni grazie agli infermieri messi a disposizione dall'azienda sanitaria. Nel recente passato purtroppo altri annunci come la promessa assunzione di oculisti non si sono tradotti in fatti concreti. A maggior ragione verificheremo che l'impegno a riaprire alla RSA nei primi giorni di novembre assunto dall'assessore venga mantenuto risolvendo una delle numerose criticità che affliggono la sanità pordenonese. Da notizie di questi giorni sembrerebbe profilarsi per il prossimo 15 novembre la riapertura della RSA di Sacile, mentre per Pordenone al momento la situazione è più incerta. La Polizia di Stato è stata presente ieri e oggi con uno stand presso il padiglione 7 della Fiera di Pordenone in occasione della manifestazione Punto di Incontro, fiera dedicata al lavoro, alla formazione e all'orientamento giunto alla tredicesima edizione di cui abbiamo dato conto in una passata edizione, che costituisce una delle iniziative più importanti indirizzate agli studenti e alle loro famiglie per la formazione e l'orientamento. Per tutta la durata della manifestazione i visitatori hanno potuto visitare la postazione multimediale curata dall'ufficio relazioni con il pubblico della Questura di Pordenone. Per chi fosse interessato sul sito www.poliziadistato.it, area concorsi Polizia di Stato, sono disponibili le informazioni sui concorsi in atto per accedere appunto alla Polizia di Stato. e Ambiente Servizi Veneto Orientale comunica che lunedì 1 novembre a Portogruaro non saranno effettuate le raccolte di vetro, plastica e lattine umido per le utenze commerciali del centro storico, mentre per Frati Sant'Agnese e San Nicolò Portovecchio non si effettuerà la raccolta dei pannolini. L'azienda informa inoltre che sempre lunedì 1 novembre resteranno chiusi tutti i centri di raccolta, gli sportelli Tari, servizio raccolta e servizi cemiteriali presso l'Eco Sportello e la sede amministrativa e gli uffici dell'impianto di Centataglio. E sempre a Portogruaro, entro il termine perentorio del 17 novembre prossimo, dovranno pervenire all'ufficio Servizi Sociali del Comune le domande per l'assignazione in locazione di alloggi di proprietà del Comune riservate alle persone anziane. Per la verifica dei requisiti e per un aiuto nella compilazione delle domande è possibile concordare un appuntamento contattando i Servizi Sociali allo 0421 277 385 o 277 361 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 17. E dentro venerdì 5 novembre, quindi venerdì della prossima settimana, scade il termine per la presentazione delle domande al bando per l'erogazione di un contributo alle famiglie per il pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2021. L'amministrazione comunale di Portogruaro ha stanziato 50 mila Euro da destinare a misure di sostegno alle famiglie che versano in difficoltà economiche. Il contributo è riferito alla Tari relativa all'abitazione di residenza della famiglia e sarà pari al 50% della tassa sui rifiuti dovuta con possibilità di incremento o diminuzione della stessa in base ai numeri delle domande presentate e delle risorse disponibili. Il riconoscimento del contributo economico è subordinato al possesso di tutti i requisiti fissati nel bando, fra i quali il possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità non superiore ai 15 mila Euro e l'impegno al pagamento integrale della Tari del 2021. Una riunione interlocutoria che le parti si augurano possa aprire una soluzione accettabile nel confronto tra organizzazioni sindacali e cona da circa il previsto trasferimento di 12 dipendenti dalla sede di Portogruaro a quella di Tavagnaco in provincia di Udine sembra aprirsi uno spiraglio. La notizia giunge a seguito di un periodo di tensione tra azienda e sindacati culminati nello sciopero del 2 ottobre scorso. Anche da parte della politica locale sembra profilarsi un'iniziativa bipartisan con un documento che dovrebbe essere discusso nel prossimo Consiglio Comunale. Ed è stato presentato in regione il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, una sorta di made in Friuli che raccoglie le aziende che intendono aderirvi per promuovere i loro prodotti e la loro immagine in un mercato nazionale e internazionale. Sentiamo al riguardo le parole dell'assessore regionale all'agricoltura Stefano Zanier. Assessore Zanier, io sono Friuli Venezia Giulia, è un marchio che può essere abbinato ad altre marche e forme di tutela per promuovere i nostri prodotti locali. Sì esatto, io sono Friuli Venezia Giulia, essendo un marchio collettivo che ha come matrice la sostenibilità e la tracciabilità, va ad individuare aziende che entrano in un percorso per il quale il loro obiettivo è quello di migliorare costantemente sul tema principale del marchio che è proprio sostenibilità e tracciabilità. Però questo consente, essendo un marchio collettivo, di poter abbinare quelli che sono ad esempio i marchi di qualità dei prodotti già esistenti, per cui noi potremo riuscire in un'unica forma comunicativa a dare un'evidenza assoluta della riconoscibilità del territorio regionale rispetto a quell'azienda e a quel prodotto e dall'altro abbinare la garanzia per il cliente derivante dai marchi di qualità. Questa è una possibilità che viene offerta alle aziende del regione Friuli Venezia Giulia e che quindi riescono a beneficiare sia dal livello di tutela già individuato e regolato dai disciplinari di produzione, penso proprio ai marchi di qualità, e dall'altro invece ad aziende che hanno fatto un percorso ulteriore, una scelta rafforzata vorrei chiamarla, perché hanno iniziato a ragionare anche di sostenibilità che si declina in sostenibilità economica, in sostenibilità sociale, in sostenibilità ambientale. Questo quindi darà un ulteriore valore aggiunto e ripeto la comunicazione generale che ci sarà su Io sono Friuli Venezia Giulia in tutti i settori, non solo quello dell'agroalimentare, farà sì che ci sia un effetto moltiplicatore a livello di comunicazione. E nuova tranche di buoni spesa rivolti alle famiglie che versano in stato di bisogno. fino a giovedì 18 novembre prossimo potranno richiedere i buoni spesa ai cittadini dei comuni della Conca Tolmezzina in possesso di un'attestazione ISEE ordinario o corrente di importo pari o inferiore a 10.000 euro nel caso di residenza a Tolmezzo, Cavazzo Carnico o Verzenis e di 12.000 euro nel caso di residenza ad Amaro. I buoni potranno essere utilizzati entro il 30 aprile del 2022 negli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa per l'acquisto di prodotti alimentari, escluse le bevande alcoliche e i prodotti per la pulizia della casa e l'igiene personale. Potrà presentare domanda anche chi ha già ottenuto i buoni spesa del 2021. Segneriamo sempre queste notizie perché sono segni di grande importanza da parte delle comunità locali nei confronti di chi soprattutto a causa della pandemia versa in condizioni di difficoltà. Ogni giorno ci arrivano immagini drammatiche dai troppi luoghi in cui sono ancora presenti conflitti bellici nel mondo ed è per questo che la storia del milite ignoto è oggi quanto mai attuale e va ricordata e raccontata nelle scuole come simbolo dell'assurdità della guerra. E questo è il pensiero del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna che ricorda come Gorizia teatro di sanguinose battaglie durante il primo conflitto mondiale in cui morirono migliaia di giovani partecipò con grande commozione alla traslazione delle undici salme da cui venne poi scelto il milite ignoto dopo averle raccolte nella chiesa di Sant'Ignazio. Nella giornata di ieri si è svolto un intenso programma di cerimonie a partire dalla Santa Messa ufficiata proprio a Sant'Ignazio dall'arcivesco e un monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli. Al termine della messa a fianco della chiesa ha avuto luogo la scopertura del pannello storico dedicato al milite ignoto su iniziativa dell'ANA e del Lions Club Gorizia Ost. Trieste ha ricevuto l'ambito diploma di Comune Fiorito dall'Eima Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio di Bologna, confermandosi tra le amministrazioni comunali più virtuose nel mantenere l'ambito marchio nazionale di qualità. Una certificazione finalizzata a garantire e migliorare l'aspetto del territorio dal punto di vista ambientale, turistico ed economico. Nelle conclusioni i giudici affermano che la superficie verde del territorio può sembrare a prima vista ridotta, ma ad un'analisi più attenta Trieste si scopre una città molto ricca di verde. È infatti la sesta città in Italia per verde pro capite, 32,6 metri quadrati per cittadino e possiede oltre 120 mila alberi, di cui censiti circa 22 mila. Nonostante le limitazioni imposte da lavoro e dal fisiologico vandalismo presenti in una grande città, la dotazione di fioriture è rilevante. Da rilevare ancora che in concomitanza con l'ottenimento del marchio di qualità di comune fiorito, la rivista The Guardian ha eletto la città di Trieste tra le migliori in Europa per camminare all'aria aperta. Le sei città prescelte dalla rivista inglese, oltre a Trieste, sono Berlino, Marsiglia, Siviglia, Copenaghen e Lisbona. Importanti riconoscimenti dunque per la bellissima Trieste. E riapre a capienza piena il teatro metropolitano Astra con una stagione 2021-2022 ricca di proposte di alta qualità in grado di soddisfare tutte le attese del pubblico cittadino e non. Prosa, musica, circo, teatro, danza, la rassegna visioni propone un ventaglio ampio ed estremamente variegato. Il primo appuntamento che apre il programma è La vita davanti a sé, lavoro di Silvio Orlando, ispirato al testo di Roman Gheri, una storia di vite marginali che alterna divertimento e commozione in scena tra il 26 e il 27 di novembre. Quindi per gli appassionati del teatro una ghiotta opportunità da non farsi sfuggire. E domani, venerdì 29 ottobre, si terrà in tutto il Friuli Venezia Giulia l'ottava edizione di un libro lungo un giorno, giornata regionale della lettura promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia. La giornata prevede una marattona di letture nei posti più disperati, non solo nelle biblioteche. In tale occasione il Servizio Biblioteche e Musei del Comune di Trieste partecipa con delle letture proposte dalla biblioteca d'arte Sergio Molesi nei suggestivi spazi del museo circondati dalle opere d'arte. Seguirà un piccolo momento dedicato al disegno per fissare le emozioni e le suggestioni ricavate dalla lettura. In questa occasione sarà possibile scoprire la ricca sezione di libri d'arte per bambini della biblioteca Molesi e prenderli in prestito. E con questa ultima notizia noi chiudiamo il telegiornale di prima serata. A tutti voi cari amici di Media24 un cordiale buonasera, grazie della vostra attenzione e come sempre in alto i cuori.